18 settembre, 26 febbraio, domani tornerà in campo Meignan contro l'Atalanta. Ufficialità arrivata ora ora da Mr. Pioli, vi ricordo intanto di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di commentare. Dunque finisce il calvario di Meignan con questi problemi al polpaccio che l'hanno tenuto fuori per più di 5 mesi. Sarà titolare, Meignan sta bene e dunque domani alle ore 20.45 indosserà i guantoni da titolare e difenderà la porta del Milan in una gara molto importante contro l'Atalanta. Rivale, una delle rivali più accreditate per un piazzamento in Champions League, al momento sotto di tre punti. Immagino l'emozione che ci sarà per Meignan e per il popolo di San Siro che lo vedrà entrare in campo. Immagino un boato, davvero il Milan recupera un top player che è mancato tanto, anche se nelle ultime gare Tatarusano ha fatto bene. Però il recupero di Meignan è qualcosa che era tanto, 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 tanto atteso. Abbiamo letto, sentito maldicenze, fake news, cattivere sul suo conto, tutte balle. Ora torna l'augurio per lui e per il Milan che possa stare sempre bene e che possa essersi lasciato alle spalle il problema al polpaccio, definitivamente. L'ultima partita l'ha fatta il 18 settembre contro il Napoli, sconfitta casalinga per il Milan. Pensate quanto tempo è passato, quante cose sono successe in questi oltre 5 mesi. Dunque Tatarusano torna in panchina e Meignan titolare, motivo di attenzione ancora maggiore rispetto alla partitissima di questo weekend. Milan-Atalanta, San Siro ore 20.45, Meignan titolare. Ditemi che cosa ne pensate. Iscrivetevi qui sulla mia faccia, sul canale se lo avete ancora fatto. Lasciate un bel like e commentate numerosi. Ultima ora importantissima per la Cemina, recupero di Meignan, giocherà lui, ora è ufficiale. Un saluto, alla prossima e ci vediamo presto per altri aggiornamenti. Ciao!